Ciao a tutti, durante il mio ultimo Milsimop ho avuto la possibilità di testare l'ultimo laser e luce del FMA-LA5 UHP ANPEC che ho risultato un po' di tempo senza essere capito di evaluare queste funzioni. Mi ero molto impressionato con l'ultimo laser di Infrared. Questa cosa è abbastanza potente, ho potuto arrivare un po' di tempo con il laser, ancora un punto di vista chiaro e ben definito laser. Per esempio, per il prezzo è in realtà abbastanza buono, se spieghi con Gogglese di Night Vision, ovviamente l'IR laser non è visibile in qualsiasi modo. spieghi con Gogglese di Night Vision è in realtà abbastanza difficile, l'IR laser sicuramente darà l'ultimo, o almeno un punto di vista di referenza. Sto spiegando il laser a questi bambini che sono almeno tre milioni, e in realtà è abbastanza meglio che la camera. se avete avuto alcuni NBG, questo è sicuramente un prodotto che mi raccomando, altrimenti ancora preferisco il FMA-AMPEG-15 con il laser verde, che è sicuramente più potente che questa. Nella notte, sull'IR flash light cap, su questa unità di spec, scusate, ma è abbastanza più utile. Ok, grazie per la visione ragazzi, seguiteci su Facebook e Instagram. as well, take care and until next time, stay safe out there.